Sì, dica? Ehi, ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter e oggi sì Sono tornato su quei due bastardi Sul server per il terzo episodio Aaaaaah Ho scaricato la nuova versione, la meno buggata, sì Vediamo Speriamo che ci farà meno incazzare Ne dubito Pronti per il terzo livello? E ragazzi, 15.000 mi piace, nuovo episodio E tra l'altro fatemi sapere dove stanno i belli segreti che li devo trovare Casomai li faccio anche quelli Come al solito, date un voto a questo gioco e continuate a suggerirmi i giochi bastardi qua sotto nei commenti E siamo pronti Salve, ci sono dei ventilatori e dei forchi il cazzo Ecco, già muoio Fantastico Che cazzo è successo? Perché è bianco e nero? DROGA PESANTE Che cazzo sta succedendo? Perché? Perché questa cosa? Ecco Scusate, Redex e Sinergo Potreste dare l'indirizzo al vostro spacciatore? Grazie Non lo so Io Perchè? Dio! Non iniziamo bene Ok Salta l'indirizzo Non salta Ma Dove? Non andremo mai avanti Ok, se io sto qua sopra non mi dovrebbe succedere niente 3D Salta e risalta Non va! Non so cosa ho fatto Dobbiamo prendere la merda Cura Che cazzo ho fatto? Qual erano? 1, 2, 3, 4 No! Era quest'altro Cazzo io! Bisogna scendere di qua semplicemente Ci sono i big money! Vai! Redex! Erano big money Io volevo i soldi Quindi non posso manco prendere i soldi Muori Il livello 3 è il più stronzo di tutti finora Oh cazzo, oh cazzo! Vedo un checkpoint Ma ho paura Tanta paura Perché penso che finirò morto? Ecco! No! Vaffanculo Oh! Abbiamo tolto il bug È più divertente il gioco Vai 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 cazzo! Sì! Vai! Ciao 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 Sento come un bambino in chiesa C'è un cat mario Tu stai fermo lì vero? Ok, te ne vai No! Qui sotto c'è un checkpoint Me lo fate raggiungere? Se premiamo questo Che succede? Che moriamo! Cazzo! Lo sapete in questo gioco Porco! Lo sapete in questo gioco Perché ci stanno i maiali? Perché di porconi Se ne tirano tanti Co! Appunto Dicevo Se clicco qua Che succede? Che va da checkpoint! Miracolo! Ok vai scendi 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 No Devo prendere quel cazzarola Di punto interrogativo E vai! Merda! Prendilo! L'ha preso! L'aveva preso Ok si è sbloccato Checkpoint! Tecnica segreta Vai! Sì! Ho paura Ho paura Vai 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 Sì! No! Mi sei fatto da questa parte Vai Sinergo! Vai Sinergo! Ce la possiamo fare? Ok Porca troia Mi sono fatto male Maledetto gioco Mi sono tipo Spaccato un piede Me la pagherete Non giocate a questo gioco Vi potrebbe fare del male Fisico Io sono L'enigmista Non so più come andare avanti Ci vado a buttare a me Zare fiamme Buttateci te Vai! Sì cazzo Basta Tocca rifà tutto il giro Premi Muori Vai! Vai! Sì! Vedo un checkpoint Doppio salto con Redez E scatto con Sinergo Vai! No! Alleluia! Checkpoint! Dai così! Andiamo a finire questo gioco Cazzo Non in questo modo Vogliamo La 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 Scleriam Ok ci siamo Vai! Fanculo Ci siamo Ok Ok Non trollate Non trollate C'era la merda La merda Sì Certo Suino Ma zitti tutti Zitti tutti Perché? Non ce la farò mai Help me please Ma il cazzo 140 morti Evviva My checkpoint Fu tanto lieto Evitiamo di morire Andiamo a fanculo Andiamo sui porchi Vai E vai di là No 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 Non ritorna Non trollate No 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 Stai calmo Dexter Stai calmo Non si pare semplice Gioca questo gioco È tanto divertente Vai 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 Salta Ciao No no Rimani in alto Rimani però Salta sta luna Saltala Vai a prendere sto coso E vaffanculo No 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 Oddio Oddio il doppio scatto Dov'è Vai Corri 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 Please Ok ora Ora quella Mi va addosso Non è possibile Restart 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 Dammi la minchia Salve Sono Reddits E cammino sull'area Preferivo partorire Ma che è Vai sinergo Vai 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 Sì 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 Avanti Finiamo questo gioco Ora da qua Vai Signore mio Si Cascassi di qua No No Non ce la faremo mai E ora una paura fottuta Ma cosa Era il muro C'è Ghostbuster Questo gioco è benifico Il più bel gioco del mondo Cazza Sitti tutti Quasi campioni del mondo Basta So per quittare Ok dove siamo finiti In un checkpoint Non ci credo Oh cazzo Oh cazzo No vabbè Che mamma Ciao Facciamo prima così Sì cazzo Che genialata Mamma mia Vai 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 Sono un genio Basta Poi devo giocare a palla a volo Ti prego vai Non ci credo nemmeno io Checkpoint E andiamo Voglio finire sto gioco E vai E vai E vai Checkpoint Non è stato difficile raggiungerlo Vuol dire che siamo quasi al Che cazzo era Un boss finale Tirai le bombe Perché non funziona Ciao Ciao addio Evviva il livello Buggato Sinergo nello spazio Ti prego Ammazzalo Te cazzo le batterie E non muore Distruggilo Ammazzalo Spaccalo Dai che manca poco Cazzo Dai 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 E va a finire il livello Italia Ho vinto Finalmente abbiamo finito questo gioco Ditemi dove sono gli easter egg Che magari facciamo anche quelli 15.000 mi piace 20.000 mi piace Per aver finito questa tortura ragazzi Fatemi sapere quali sono i livelli Bug I livelli segreti Di questo Che magari facciamo anche quelli No Continua a suggerirmi Giochi stronzi Bastardi Date un voto da 1 a 10 A questo gioco Quanto è bastardo Scaricatelo Fatemi sapere Il vostro record Noi ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Saluto quei due sul server Che hanno fatto un gioco Meraviglioso Io vi mando Un abbraccione Un salutone E ci risciau gente